E' iniziato il processo a carico dell'assassino di Simone Frascogna, il 19enne ucciso con quattro coltellate la sera del 3 novembre del 2020 a Casanuovo. Per la prima volta si costituisce parte civile al processo lo stesso comune di Casanuovo. Una prima vittoria, l'intera comunità casanovese sarà rappresentata in questo dibattimento, ha annunciato il sindaco Pelliccia. Insieme a quella dell'ente è stata accolta anche la richiesta di costituirsi parte civile della fondazione Polis. A processo, Domenico Iossa, unico tra i tre aggressori maggiorenne. Secondo quanto ricostruito anche grazie alle immagini di videosorveglianza, Iossa e i due minori in sua compagnia avrebbero iniziato la discussione per una banale precedenza negata lungo il corso di Casanuovo. Dalla collutazione che ne nacque, uno degli aggressori decise poi di tirare fuori il coltello e di colpire il giovane intervenuto a difendere l'amico. Inutile la corsa in ospedale, Simone morì poco dopo. L'amico, anche lui ferito, fu invece dimesso in giornata. Gli stessi amici e parenti della vittima si sono riuniti all'inizio del processo all'esterno del Tribunale di Napoli. Al grido di siamo tutti Simone chiedono giustizia e pene certe per i responsabili del suo assassino. La prossima udienza è fissata per il 15 luglio. A settembre invece inizierà il processo per i più piccoli.